Un periodo di transizione determinato prima da una reale e profonda crisi economica con il post-Covid e la guerra in Ucraina. I costi lievitati, le materie prime diventate quasi un lusso, il commercio al centro con la necessità di risollevarsi e di farlo in fretta. Il momento è questo e sono i comuni a far fronte garantendo condizioni di supporto attraverso progettualità che investano completamente il territorio. Così a Sarno con l'assessore al commercio e bilancio Francesco Squillante e la progettualità disegnata dal distretto del commercio che di fatto va a delineare una nuova visione di rilancio territoriale e delle attività commerciali in una rete sempre più stretta e collaborativa con l'obiettivo di crescita e di sviluppo. Il momento è difficile nell'ambito non dico nazionale ma forse europeo, poi ognuno bada al proprio territorio. Noi siamo amministratori locali quindi dobbiamo guardare al nostro territorio, potremmo dire al nostro otticello. Noi come amministrazione cerchiamo e stiamo cercando di dare il massimo. Lo abbiamo fatto con creare un calendario che potesse dare a sospiro, respiro alle attività commerciali. Lo abbiamo fatto attraverso l'istituzione del distretto urbano del commercio. Per fine mese ci sarà la firma dell'accordo di distretto, si parlerà di programmazione e di rigenerazione ma soprattutto di tutela degli esercizi di vicinato, quei piccoli negozi che ormai hanno grosse difficoltà e che si trovano a dover combattere con la burocrazia, con il fisco e anche con quello che poi oggi ci troviamo a vivere che è il momento anche del rispetto e della sicurezza del territorio. Assessore, lei ha nascato un meccanismo importante con i commercianti, quello di vedervi e in qualche modo di ascoltarli? Vederli e ascoltarli. A noi serve, io ho sempre detto che da soli si va veloce e insieme che si va lontani. Occorre associazionismo anche tra i commercianti. È difficile per quando si decide nella propria casa o nella propria attività, è molto più semplice decidere. Quando bisogna decidere in sinergia diventa più difficile, ma occorre questo, lavorare in simbiosi.